Un saluto a tutti i campionari di Youtube, ci troviamo a Reccetto e questa è la chiesa parrocchiale di San Domenico. Abbiamo un concerto di 5 campane che adesso ascolteremo per la Santa Messa. Suonerà la distesa a 5 e poi anche il Dio si è fatto come noi. A presto! 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 A presto!